Le sorelle Selassie sono state le protagoniste assolute della puntata di ieri del Grande Fratello Vip. Dopo essere state attaccate da chiunque, il colpo di grazia lo ha regalato Manila Nazzaro parlando degli scontri generazionali della casa. Ecco le sue parole contro le sorelle Selassie. Dopo tutti questi discorsi, io ho chiuso dicendo che questo si chiama Grande Fratello Vip. E voi di Vip non avete niente. Quindi ringraziate già che siete qui, pretendendo pure di rimanere a discapito di altre persone come noi, perché siamo vecchi. Ma che discorso è? Solamente la maggiore delle sorelle Selassie ha partecipato a Riccanza insieme a Tommaso Zorzi. Lulu e Clarissa sognano un futuro nel mondo della musica ed in più di una occasione hanno ringraziato Alfonso. Signorini per avere creduto in loro. Naturalmente non sono mancati gli attacchi a Manila Nazzaro su Twitter che scrivono Perché tu di Vip cosa hai? Voi cosa ne pensate?